Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo sabato avremo un tempo ancora stabile, finamente estivo al centro e al sud per l'effetto dell'anticiclone sub-tropicale ancora predominante sul Mediterraneo centrale, mentre una perturbazione atlantica prova la birra di notte portando qualche pioggia e anche qualche intenso temporale. In Abruzzo si prospetta una giornata finamente estiva con cieli sereni o a più velati per il prazito di nubi medio-alte che non porteranno fenomeni. Temperature in ulteriore, lieve e aumento nelle massime con dichi di 31-30 gradi a bassa quota, ma clima caldo comunque su tutta la regione. Il clima leggermente è più gradevole, solo in piena notte le mini impatti usciranno tra i 15 e i 20 gradi. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.